Ben ritrovati, ben ritrovate, a secondo appuntamento veneziano delle lezioni sciasciane. Per chi eventualmente non ci avesse seguito la settimana scorsa, ricordo che si tratta di un progetto ideato dal Comitato Nazionale per il Centenario della Nascita di Leonardo Sciascia, a cui collaborano anche l'Università di Prestranieri di Siena, l'Associazione Amici di Leonardo Sciascia, la rivista gli studi sciasciani Todomodo e Treccani, che ringraziamo oggi particolarmente nella persona di Giovanni De Stefano che ci segue nel nostro collegamento. Per l'organizzazione delle lezioni veneziane, devo ringraziare, dobbiamo ringraziare Proteo Venezia che ha affiancato l'Università Caposcari in tutti gli appuntamenti appunto che si tengono virtualmente dalla laguna. La settimana scorsa abbiamo sondato l'attualità di Sciascia, così recita infatti il titolo del nostro piccolo ciclo, con la professoressa Rizzarelli, analizzando, valutando la particolare apertura dello scrittore a diversi linguaggi artistici. Oggi affrontiamo il tema da un altro punto di vista, ovvero sia discutendo, rivedendo e approfondendo l'aspetto della collocazione di Sciascia nella letteratura secondo novecentesca. E lo facciamo con due interventi. Il primo, dal titolo L'ultimo grande scrittore moderno, Sciascia e la letteratura italiana del secondo novecento, ci viene proposto dal professor Fabio Moditerni, che abbiamo il grande piacere di ospitare, anzi lo ringrazio molto per aver accettato il nostro invito. Ci fa particolarmente appunto piacere averlo qui con noi. Il professor Moditerni insegna letteratura italiana contemporanea presso l'Università del Salento e ha una serie di interessi di ricerca che si muovono veramente su una tastiera molto ampia. Possiamo ricordare qualche linea, insomma, delle sue ricerche che spaziano dalla storia della cultura e degli intellettuali tra otto e novecento, la poesia italiana del novecento e contemporanea, la letteratura meridionale del novecento e però appunto un po' in una fetta abbastanza consistente delle sue ricerche, ha proprio interessato Leonardo Sciascia. Ecco, se dovessimo ricordare tutte le sue pubblicazioni, anche solo su Sciascia, perché poi sono molto più numerose che non quelle riservate solo a Sciascia, avremo da fare un lungo elenco. Per cui mi limiterei a citare soltanto qualche titolo. Prima però di ricordare i suoi studi Sciasciani voglio così segnalare un testo molto importante, secondo me, è uscito proprio nel venti. L'epistolario tra Roversi e Sirene, bellissimo titolo, vincendo i venti nemici, lettere milenovecento e cinquantanove, millenovecento e ottantadue, pubblicato il presso Pendragon. Poi anche altri carteggi ha curato il professor Moliterni, anche un bellissimo carteggio, secondo me, di Sciascia con Bodini. Anche lì un bel titolo, Sud come Europa, carteggio, millenovecentocinquantaquattro, millenovecentosessanta, pubblicato da Besa nel duemila e undici. Ecco, uno degli epistolari che ci stanno recentemente proprio facendo conoscere una serie di referenti per Sciascia che magari conoscevamo di meno e che invece ci rendiamo conto sono stati per lui importantissimi. Ancora due volumi ha dedicato il professor Moliterni e Sciascia, il primo è uscito nel duemila e sette da Biagraphis, la nera scrittura, Saggiso Leonardo Sciascia. Poi in parte ripreso e rivisto e così nel volume recente del duemila e diciassette, Sciascia moderno, vedete il titolo proprio ci porta al cuore del nostro argomento, studi, documenti e carteggi pubblicati da Pendragon nel diciassette. Ancora mi piace ricordare un articolo illuminante secondo me uscito nell'ultimo numero di todo modo nel duemila e venti negli atti di un convegno che si era tenuto a Parigi l'anno prima, il titolo Un moralista meridionale, Sciascia, Gramsci e il Sud. Dopo la lezione del professor Moliterni avremo un secondo intervento del dottor Andrea Verri che ci parlerà dello stesso argomento di cui appunto ci stiamo occupando analizzandolo in rapporto a particolare diciamo particolare relazione con trascrittori che andrà a verificare nel Consiglio d'Egitto. Il titolo della sua della sua conversazione, il Consiglio d'Egitto, la tortura e l'impegno. Dottor Verri penso sia conosciuto a molti dei presenti sul nostro collegamento, insegna materie letterarie presso l'Istituto Statale di Istituzione Superiore 8 marzo Lorenz di Mirano. Ecco ha conseguito il dottorato di ricerca da noi a Ca' Foscari con una tesi proprio su Leonardo Sciascia. Questa tesi poi è diventato un volume, il titolo per la giustizia in terra Leonardo Sciascia, Manzoni, Belli e Verga comparsa nel 2017 e poi sono seguiti anche altri interventi su Sciascia e non solo. Siccome il nostro programma è molto denso io non voglio rubare altro tempo e passo subito la parola al professor Moriterni ancora ringraziando la sua partecipazione alle nostre lezioni. Fabio a te la parola. Grazie, grazie Ricciarda. Un saluto a te in particolare ma poi a tutti gli organizzatori. Spero che si senta e si veda tutto bene. Sì, come tu dicevi cercherò soprattutto di stare nei tempi e poi mi devo scusare per la voce particolarmente bassa ma in questi giorni come forse qualcuno di voi saprà il sud è stato colpito da un vento molto forte di tramontana insieme a tutte le altre cose. Allora io cercherò di come dicevamo di collocare Sciascia nella letteratura italiana del secondo novecento mi verrà forse di ripetere alcune cose note ma sapendo che lo spirito di queste lezioni è quello di dedicare diciamo un approfondimento all'opera di Sciascia rivolto soprattutto alle scuole e sappiamo bene come il novecento ma in particolare la seconda parte del novecento è un periodo purtroppo molto trascurato per questioni anche soltanto di tempo appunto nelle scuole italiane mi sembrava giusto ripercorrere appunto la biografia intellettuale di Sciascia negli anni 60 e 70 fino alla sua scomparsa. Per farlo vedrete che adesso condivido lo schermo potrete sia vedere diciamo immagini degli scrittori coetane appunto di Sciascia di cui parlavo tra poco ma anche leggere insieme a me alcune citazioni alcuni brani delle sue opere ma anche di altri autori. Allora vediamo se riesco a condividere. Credo di sì vero? Sì bene. Benissimo grazie. Allora vorrei incominciare da un articolo di Mario Barenghi pubblicato lo scorso gennaio sulla rivista online doppiozero punto com. Barenghi ricordava che durante questi ultimi anni stiamo assistendo al centenario di un'intera generazione di scrittori. Il 2019 è stato il centenario della nascita di Primo Levi. Nel 2017 ci sono celebrati i cento anni di Fortini. Il 2020 appena passato ha festeggiato i cento anni della nascita di Gesualdo Bufalino e Gianni Rodari. Quest'anno come tutti sappiamo è la volta di Sciascia nato l'otto gennaio e di Mario Rigoni Stern primo novembre. Il 2022 ancora toccherà Luciano Bianciardi, Fenoglio, Mancanelli, Meneghello, Pasolini. L'anno seguente a Testori, Calvino e a Roberto Roversi. Il 2024 il fine sarà l'anniversario di Giuseppe Bonaviri e di Paolo Volponi. È la generazione degli scrittori nati negli anni 20 del novecento di coloro che hanno vissuto da protagonisti gli eventi centrali della seconda parte del secolo scorso. La guerra, la fine del fascismo e la Shoah, la resistenza e la fondazione della Repubblica, gli anni della ricostruzione, gli entusiasmi e le delusioni, il miracolo economico, fino alla stagione del terrorismo e del crollo del muro di Berlino. Più volte, se ci pensiamo, è stato fatto notare che le date della nascita e della morte di Sciascia si intersecono proprio con due tra gli eventi costitutivi del cosiddetto secolo breve. La fondazione nel 1921 del Partito Comunista Italiano, un altro centenario, e appunto nel 1989 la caduta del muro di Berlino e la conclusione definitiva della guerra fredda con tutte le conseguenze che arrivano a segnare la nostra epoca della globalizzazione. I narratori degli anni 20 rappresentano la spina dorsale del canone novecentesco. Per loro non contano le oscillazioni del gusto o del mercato, si direbbe che rappresentano forse gli ultimi classici del secolo scorso, gli ultimi grandi scrittori italiani moderni, come è stato suggerito da uno studioso di Pasolini, Antonio Tricomi. Barenghi concludeva così la sua rassezza. Releggendo l'elenco di nomi da cui siamo partiti, viene da pensare che davvero non sia facile trovare né prima né dopo un drappello di scrittori di quella levatura. L'obiettivo di questo mio intervento, come vi anticipavo, sarà quello di far dialogare Sciascia con gli autori che sono stati i suoi coetanei, provando a individuare qualche aspetto che lo avvicina o lo allontana da Calvino, Pasolini, Primo Levi, e ragionando in breve sull'idea di letteratura che l'autore siciliano elabora a partire dagli anni sessanta e settanta fino alla sua morte. Avverto in partenza che le mie riflessioni serviranno soltanto a fissare i tratti più nuovi e significativi dalla vicenda intellettuale di Sciascia. Avranno un carattere piuttosto frammentario, ma di certo interlocutorio, dal momento che uno studio più approfondito sulle relazioni individuali, intrattenute da Sciascia con gli scrittori suoi coetanei, sarà possibile quando avremo la disponibilità degli epistolari integrali, oggi solo in parte recuperati a partire per esempio dal carteggio con Roberto Roversi e da alcune lettere scambiate da Sciascia con Pasolini e Italo Calvino, ma sappiamo per fortuna che la fondazione Sciascia di Racalmuto conserva tutto il materiale epistolare dello scrittore che è liberamente consultabile grazie all'impegno del direttore letterario Antonio Di Grado ed i suoi collaboratori, ed è, faccio notare, un materiale ancora in parte inedito dal quale è attinto, per esempio, Paolo Squilaccioti nel suo lavoro filologico per le opere complete pubblicate con Adelfi. Ricordo poi che proprio sul dialogo con l'opera di Pasolini si è tenuto nel novembre del 2019 un convegno a Casassa della Delizia, promosso dal Centro Studi Pasolini in collaborazione con l'Associazione Amici di Leonardo Sciascia, intitolato Pasolini e Sciascia, ultimi eretici, affinità e differenze tra due intellettuali soli e disorganici, fraterni e lontani. E faccio presente, infine, che la bibliografia critica sul dialogo avviato da Sciascia anche a distanza con figure, potremmo dire, fraterne e lontane, come lo stesso Calvino e Primo Levi, si è andata arricchendo in questi anni grazie ad alcuni studi ospitati sulla rivista internazionale Todo Modo, pubblicata da Olski e diretta da Ricciarda Ricorda e Francesco Izzo. Partirei da un anno chiave, il 1975. In un articolo del 24 gennaio Pasolini annunciava la fine della sua collaborazione con il settimanale Tempo, dove aveva pubblicato articoli e interventi sulla letteratura contemporanea che poi furono riuniti nel volume postumo intitolato Descrizioni di Descrizioni. Ecco, potete leggere le righe tratti da questo articolo dopo circa 100-150 settimane in cui regolarmente ho scritto ogni settimana un pezzo su un libro, prendo concedo dal mio lettore per un periodo di sosta. Forse casualmente, o forse per una consapevolezza programmatica, l'occasione della sua descrizione finale è legata all'uscita di un romanzo di Sciascia, Todo Modo. Altra cosa gradevole è parlando dell'ultimo libro di Sciascia che prendo concedo dal lettore. Le sincronicità o le coincidenze suggeriscono per la scrittura testimoniale dell'ultimo Pasolini una volontà di destinare il congedo in pubblico, rivolgendosi agli esponenti della sua generazione, ai compagni di strada persi o ritrovati nel corso del tempo, interpellati ancora poco prima della sua morte. Un riscontro è dato dall'ultima lettera luterana, anch'essa rivolta a uno scrittore equitanio come Calvino, pubblicata da Pasolini sul mondo il 30 ottobre 1975, cioè due giorni prima del suo Assassinium. Pensando proprio a Pasolini e alle sue descrizioni, si tratta quindi di riattivare un angolo visuale utile per inquadrare la figura di Sciascia nella cornice più vasta degli sviluppi della storia culturale italiana del secondo novecento fino ad oggi, a partire proprio dalla generazione letteraria alla quale appartiene. Le possibili genealogiche che discendono da questa impostazione consentirebbero di inserire lo scrittore siciliano nel quadro delle dinamiche conflittuali che portavano alla consulzione della tradizione del moderno, provocando una revisione dell'idea di letteratura ereditata dal passato di fronte all'incedere di nuove forme e sistemi della percezione letteraria del reale, caratteristici del cosiddetto postmoderno. Durante gli anni Sessanta, Sciascia viveva nel corpo stesso della sua scrittura il crollo delle speranze e degli ideali progressisti. Basti pensare all'anno del 1956 e a quanto contò questa data traumatica per i posizionamenti politici gli autori che erano stati vicini al comunismo, da Calvino e Fortini a Pasolini, lo stesso Sciascia del racconto La morte di Stalin. Contemporaneamente si trovava a dover affrontare il collasso delle poetiche del realismo che invece avevano fatto scuola negli anni del dopoguerra, neorealismo ed intorni. Il vago ma identificabile sostrato Gramsciano, già complicato nella sua peculiare formazione giovanile dal pirandellismo di natura che intride le favole della dittatura, così come le cronache regionali e i tentativi di affresco storico, stiamo parlando della cosiddetta preistoria di Sciascia, ora si prestava a fungere non come ingombro ideologico del passato, ma di certo come un precario sistema di riferimento smentito dagli eventi. Ed è significativo che da quello snodo la sua ricerca letteraria risulterà inevitabilmente turbata, segnata dalla necessità di sperimentare forme di pensiero e modalità di scrittura per dirla proprio con Pasolini all'altezza del nuovo corso della storia. Da quel momento si ecclisseranno o muteranno nel profondo gli elementi che avevano caratterizzato i suoi esordi. Il pervasivo riferimento ambientale alla Sicilia è la tipologia del personaggio oppositivo, retaggio delle poetiche realiste, al centro dei primi testi narrativi, dalle parrocchie delle Galpetra al capitano Belloni del giorno della civetta. Si imporrà invece la necessità di una svolta museologica, il bisogno di abbandonare o meglio di destrutturare alle radici gli schemi e i generi ereditati dalla tradizione per approdare a una sostanziale complicazione delle forme della sua scrittura. Un'idea di letteratura questa che lo spinge a superare o meglio a rinnovare la tradizione del romanzo realista per sperimentare invece nuovi percorsi narrativi e tipologie espressive. Come tutti sicuramente ricordiamo, partire almeno dalla morte dell'Inquisitore, che esce nel 1964, l'opera di Sciascia prenderà durante gli anni Sessanta la strada dell'inchiesta del saggio narrativo o del non-fiction novel, per usare una tipologia oggi molto alla moda e rilanciata in anni recenti da Gomorra di Roberto Saviano, e parallelamente seguirà la strada del giallo metafisico, sperimentato già negli anni anni Settanta, qui vediamo appunto il contesto, e poi ripreso alla fine degli anni Ottanta, da todo modo fino al Cavaliere la Morte e oltre. Torneremo tra poco su questa bipartizione della sua opera, che in realtà è solo apparente e ingannevole, perché prevede una continua violazione delle frontiere e dei confini tra i generi letterari. Possiamo servirci delle numerose dichiarazioni d'autore spese in questo senso, quando ad esempio Sciascia dichiarava di se stesso credo di essere saggista nel racconto e narratore nel saggio, ma per ora proviamo a inquadrare il suo percorso nel contesto della generazione degli scrittori suoi coetanei. Questa necessità di sperimentare nuove forme narrative accomuna gran parte degli autori che ho citato all'inizio, gli autori nati negli anni venti, che ora si trovano gradualmente come davanti a un baratro, tra congedi tormentati da un passato esistenziale ideologico ormai inservibile e nuovi traumi con cui confrontarsi, non solo a livello strettamente letterario e di poeti che sono questi gli anni, ricordiamolo, dell'influenza della mia vanguardia e del gruppo 63. All'interno del campo letterario entro cui agevano questi scrittori, trasvolte, palinodie, abbiure e verifiche dei poteri, sperimentalismi e silenzi, si costituiva un insieme complesso di traiettorie che va inteso non solo come sintomo di una difficoltà letteraria a elaborare un nuovo stile, una nuova identità di scrittura, ma anche come il riflesso delle dinamiche culturali, politiche e ideologiche di quel tempo storico. È proprio a partire dagli anni 60 che in Italia incominciano a farsi evidenti lo sfinimento e la crisi degli ideali ereditati dal passato. Si dissolvano lentamente le forme collaudate della dialettica intellettuale e della società letteraria tradizionale. Erano gli effetti del passaggio repentino dall'Italia agricola all'industrializzazione neocapitalistica che finiva con il coinvolgere nell'ormai consolidata società dei consumi anche il sistema editoriale e il mercato culturale, il ruolo e la funzione dell'intellettuale umanista. Nell'arco di tempo che chiudeva per via definitiva liquidandole o minandole stranuamente la stagione dell'impegno e l'epoca delle utopie democratiche o rivoluzionarie. La mutazione antropologica individuata da Pasolini e le trasformazioni sociali e culturali in atto nel paese venivano interpretate da questi scrittori anche come un violento attacco alla civiltà dell'umanesimo e alla figura tradizionale dell'intellettuale. Il significato più vasto di questo mutamento che inaugura, come dirà Calvino, un prolungato periodo di non identificazione, di marginalità della ragione letteraria vibra nei suoi risvolti anche esistenziali tra le righe di opere, lettere o dichiarazioni stese da questi scrittori tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso. Basterà sfumare le differenze e i contrasti fra i toni utilizzati ora profetici e sversanti, ora apocalittici e ormai indisponibili a un possibile futuro per afferrare come l'eco che sprigiona con i vesti di questa stagione sia comune e ridondante. Possiamo operare alcuni prelievi tra i tanti possibili e vediamo qui che alla desolata ma rabbiosa diagnosi di Fortini, che tra poco leggeremo insieme, si affiancano gli strali allarmati di Pasolini e d'altra parte le riflessioni lucide, i bilanci geometrici e pacati di Calvino. E molto si potrebbe pescare quanto a Sciascia dagli aforismi polemici di Nero su Nero, il diario in pubblico che copre il decennio 1969-1979. Leggiamo un Fortini datato 1967, è la prima citazione. Il presente è di diserzione non tanto dalla politica quanto da ogni finalità e questo si traduce in un accorciamento della previsione, in un rifiuto del progetto, insomma in una affascinata contemplazione della morte propria e altrui. Questo esegue invece un passaggio dall'ultima lettera luterana di Pasolini a Calvino che ricordavo prima. Scrive Pasolini, tu ti appoggi a certezze che valevano anche prima, le certezze che ci hanno confortato e anche gratificato in un contesto clerico fascista, le certezze laiche, razionali, democratiche, progressiste. Così come sono, esse non valgono più. Il divenire storico è divenuto e quelle certezze sono rimaste come erano. E ancora si può citare dalla sua abbiura, dalla trilogia della vita che esce nel 1975. Il crollo del presente implica anche il crollo del passato. La vita è un mucchio di insignificanti e ironiche rovine. Dunque io mi sto adattando alla degradazione e sto accettando l'inaccettabile. Manovro per risistemare la mia vita. Sto dimenticando come erano prima le cose. Mi è davanti, pian piano, senza più alternative, il presente. Qui è Calvino, che all'inizio degli anni Ottanta stendi un bilancio malinconico dei decenni passati. Leggiamo gli anni della mia gioventù, a partire da 1945 e per tutti gli anni 50 e oltre, hanno avuto come problemi dominanti i rapporti tra lo scrittore e la politica. Potrei dire che ogni discussione girava attorno a questo punto. La mia generazione potrebbe essere definita come quella che ha cominciato a occuparsi di letteratura e di politica allo stesso tempo. Negli ultimi anni invece mi è capitato spesso di preoccuparmi di come vanno le cose politiche e di come vanno le cose letterarie, ma quando penso alla politica penso solo alla politica e quando penso alla letteratura penso solo alla letteratura. Oggi, affrontando queste due problematiche, provo due sensazioni separate e sono entrambe sensazioni di vuoto. Il vuoto di un progetto politico in cui io possa credere e il vuoto di un progetto letterario in cui io possa credere. Per suo conto, vediamo qui Primo Levi, nonostante i premi e i riconoscimenti ottenuti anche a livello internazionale, Levi scontava in quegli anni i segnali di una certa estranetà del sistema culturale o del campo letterario dominante nei confronti della sua opera, al prezzo di un incupito isolamento, la cui parabola negativa progressivamente intrisa di pessimismo e disincanto, giungerà al suo apice con i sommersi e i salvati. In effetti, dopo la tregua che esce nel 1963, a fronte, è vero, di un laborioso riconoscimento del suo mestiere di scrittore a tutto tondo, non soltanto veniva fraintesa, confusa o autocensurata la sua idea polivalente di letteratura, che dal nucleo della testimonianza di se questi un uomo sconfinava nelle tematiche del lavoro, la chiave a stella esce nel 1978, o della chimica, come nel sistema periodico, oppure sconfinava nei territori della fantascienza con i racconti di storia naturale e nella ripresa del romanzo storico di se non ora quando, del 1982, e di questi anni più radicalmente la necessità travagliata di confrontarsi con i cambiamenti della sensibilità e con le nuove strategie ideologiche del mutato sistema culturale, ovvero con l'ormai capillare postmoderno tra influssi di post-strutturalismo e di pensiero debole e con la valenza politica delle sue estetiche, gli negazionismi, l'indifferenza alla verità, la sconoscenza, la chiama Primo Levi con questo cattivo neologismo, gli abusi della memoria, il controllo dell'oblio. Fortini, Pasolini, Calvino, Primo Levi, questi autori percepiscono durante gli anni 60 e 70 da una parte la sensazione di una perdita rovinosa e irreparabile del passato e dall'altra l'incombere o il ritorno di un presente opaco. Saranno diverse e a volte inconciliabili le risposte che essi daranno nelle loro opere a questa svolta epocale. La scrittura magmatica e neoespressionistica di Petrolio, il romanzo postumo di Pasolini, è effettivamente distante, lontana dalla misura classica ed essenziale dall'apparente nitore stilistico dei testi di questi stessi anni di Levi, Fortini, di Sciascia e persino del Calvino più combinatorio. Eppure va messo in rilievo un dato che accomuna l'esperienza di scrittura di tutti questi autori che appartengono alla stessa generazione di Sciascia. Pur aggiunti da un successo quasi unanime di critica e di pubblico e si tratta di un successo a volte tardivo, come nel caso di Sciascia o di Levi, si trovano divisi tra la fiducia e la sfiducia nella funzione sociale e conoscitiva della letteratura. Sono consapevoli che la letteratura e tutto il sapere umanistico cominciano a essere sempre più marginali nel sistema culturale colonizzato dai nuovi media e che la funzione dell'intellettuale muta radicalmente nella società italiana che dagli anni di Piombo si avviava al periodo del cosiddetto riflusso e del rifiuto della politica. E tuttavia questo disincanto, questo senso di solitudine, che a volte, come si è potuto vedere, si colorava di tinte apocalittiche, conviveva nelle opere di alcuni di questi autori con una paradossale e mai dismessa tensione etica e comunicativa, civile o pedagogica, affidata proprio alle forme letterarie. La loro idea di letteratura, nelle forme e negli esiti distinti che essa assume in questi anni, prevede una rilettura innovativa della tradizione del moderno senza rinunciare a quanto di quella tradizione poteva essere ancora recuperato all'altezza del nuovo presente. Del resto, come ha ricordato il filosofo Roberto Mordacci in un volume pubblicato da Einaudi nel 2017, lo vedete qui a sinistra, intitolato significativamente La condizione neomoderna, lo spirito critico e autocritico del moderno vive da sempre nello statuto non definitivo ma processuale delle sue forme, si nutre della natura aperta e riflessiva, di un pensiero che accanto alla fiducia nei valori laici e emancipatori della scienza, dell'arte e della filosofia è disponibile a rinnovarsi di continuo, procedendo a una costante reinvenzione della tradizione. E va tenuto presente che uno dei massimi interpreti della logica culturale postmoderna come Frederick Jameson insisteva sul concetto di una sostanziale sopravvivenza, di una permanenza più o meno sotterranea delle istanze moderne nella tarda modernità. Jameson invitava a rintracciare dentro le strutture formali e simboliche delle opere letterarie il loro valore di resistenza e di alternativa di fronte ai postulati sulla fine della storia, sulla decadenza degli intellettuali o sulla scomparsa dello stile individuale, che invece si sono imposti con maggiore pervasività nei campi dell'estetica e dell'arte e nel senso comune nell'inconscio politico, dice Jameson, durante l'ultimo scorcio del Novecento. Gli ultimi grandi scrittori italiani moderni si presentano dunque come scrittori sperimentali, non aderiscono programmaticamente alle poetiche più o meno codificate come la nuova guardia o il controverso postmodernismo, le correnti cioè che tendono a liquidare ogni rapporto serio e dialettico con la tradizione letteraria e con la ricerca della verità. Operano invece una profonda rilettura dei classici del romanzo moderno o modernista dal Settecento al Novecento italiano ed europeo. Sperimentano nuove combinazioni tra le forme letterarie e i generi ereditati della tradizione e soprattutto avanzano ancora un'idea forte di letteratura, ciascuno con la propria postura intellettuale e identità di stile. Nel momento storico del suo declino istituzionale e della sua progressiva rilevanza sociale preservano della scrittura letteraria la ricchezza formale, l'intensità antropologica dell'immaginario, le potenzialità trasfiguratrici del reale e insieme la dimensione civile di critica o demistificazione dell'esistente. A questo punto possiamo accostarci più vicino a Sciascia, alle prese con il mutato contesto culturale, politico e sociale nell'Italia tra gli anni Sessanta e Settanta. Il suo laboratorio di scrittura a quell'altezza cronologica ci appare ancora oggi complesso e prismatico. Subito dopo il Consiglio d'Egitto, Sciascia sperimentava nei suoi racconti inchieste a sfondo storico, biografico, giudiziario, una sorta di filologia morale attraverso cui riscrivere le latenze o le lacune della storiografia ricercando nei documenti una verità alternativa alla scrittura inganno della doxa del discorso pubblico. E nello stesso tempo piegava le trame dei suoi gialli in una direzione sempre più allegorica, antropologica e politica dall'alto tasso filosofico, avviando a partire dal contesto un'indagine letteraria sulla recente realtà nazionale. Entrambi i poli della sua scrittura dialogavano con le forme e i ceneri della tradizione del moderno, rinnovandoli profondamente. Il romanzo storico, il pamflet, il racconto inchiesta di ascendenza manzoniana, il giallo o il poliziesco, che alla fine degli anni cinquanta era già stato magistralmente riadattato, come sappiamo, da Carlo Emilio Gadda con il suo pasticciaccio brutto di via Meculana. Dal punto di vista morfologico, la scrittura di Sciascia si sottraeva alle classificazioni o alle tassonomie troppo rigide che tendevano invece a fissarla dentro uno schema sostanzialmente binario, ma bloccato e fuorviante. Da una parte si mettevano i romanzi di invenzione o di immaginazione, gialli, il verosimile, il consiglio di Egitto. Dall'altra le inchieste dalla morte dell'inquisitorio, e appunto la scomparsa di Majorana e l'affermolo, come in un binomio chiuso, vocazione narrativa e saggismo, finzione romanzesca e documento, fiction e non fiction. Quando invece proprio le articolazioni, l'ibridazione, la reciproca dipendenza di queste componenti fermentavano nel tempo la sua scrittura. Lo sperimentalismo di Sciascia, la natura moderna o neomodernista della sua opera, lo portavano a realizzare con geni letterari, il cui impatto polemico e conoscitivo derivava proprio dall'incertezza del loro statuto estetico. Nelle sue inchieste o inquisizioni, la spinta alla riscrittura di eventi documentati si affidava a prima vista alla cribia filologica ed erudita, alla nuda e dura escursione delle fonti, all'abbassamento del tasso di funzionalità, dimistificando le menzogne sedimentate negli archivi della storiografia ufficiale, restaurando una possibile verità delle vicende ricostruite dalla parte dei vinti. Quelle prove saggistiche, apparentemente lontane dalle strutture narrative e dagli intrecci delle prose di invenzione, si nutrivano di uno sdegno morale contro il potere che in realtà prendeva le forme ora del commento diretto dell'autore, ora dell'identificazione autobiografica e dell'immedesimazione con i suoi antieroi, ora dello scavo psicologico di quelle figure storiche. Senza rinunciare alla ricerca della verità e all'attendibilità polemica che caratterizzano la sua pratica letteraria, Ciascia ricorreva a precisi schemi o procedimenti romanzeschi nell'animazione dei personaggi e nella cura dei dettagli. Si prende come esempio la scomparsa di Magliorana che tra l'altro esce nel 1975 che è lo stesso anno del sistema periodico di Levi. Sullo sfondo del resoconto apparentemente obiettivo degli antefatti e delle vicende legate alla misteriosa sparizione del fisico nucleare, Ciascia procedeva al montaggio e alla decifrazione assidua di documenti autentici, lettere, testimonianze verbali, all'analisi delle fonti e all'interpretazione intrinseca della sua indagine inferenziale inferenziale secondo il modello appunto della manzoniana storia della colonna infame. Eppure, come è dato a vedere non solo dalle polemiche scatenate all'interno delle conventicole scientifiche ma soprattutto dai meccanismi che agiscono sul piano concreto della tessualità, la ricostruzione dei fatti e il commento filiologico, potremmo dire il vero, si intrecciavano con una serie di censure, manipolazioni, espulsioni e interpolazioni delle fonti, il falso. Ciascia si impegnava in una riscrittura libera e associativa e in un'interpretazione intuitiva della vicenda narrata che a partire dalla reticenza e dalla refrattarietà delle fonti in possesso dell'autore dava vita all'uso funzionale, romanzesco, dei fatti e degli stessi documenti fino a prendere le forme nella conclusione di un vero e proprio giallo filosofico affidandosi all'interpretazione rigorosa ma obliqua e soggettiva della realtà testuale dei documenti e delle prove, pontando sulla forza trasfiguratrice ma più vera delle sincronicità e della parola letteraria, Ciascia alludeva, come è noto, all'ipotesi che il fisico non si fosse suicidato e si trovasse recuso per sua volontà in un convento calabrese come in un'esperienza di rivelazione, un atto divinatorio, se leggiamo insieme la parte quasi conclusiva della scomparsa di Majorana, nel momento in cui Nisticò ci diceva dell'inaspettata, insospettata, incredibile notizia che la lontana voce dell'amico gli aveva rivelata, noi abbiamo vissuto un'esperienza di rivelazione, un'esperienza metafisica, un'esperienza mistica. Abbiamo avuto, al di là della ragione, la razionale certezza che rispondenti o no a fatti reali e verificabili, quei due fantasmi di fatti che convergevano su uno stesso luogo, non potevano non avere un significato. Al di là del piano denotativo o detuttivo di una ricostruzione puramente documentaria, nella scomparsa di Majorana veniva alla luce la qualità polifonica o polisemica della sua scrittura. La vena riflessiva intorno ai dilemmi etici della scienza e sugli anni del regime fascista si univa alle tecniche e ai modi della narrazione biografica e saranno la superiore mistificazione della letteratura e la fantasia congetturale irradiata dagli eventi narrati a fornire, seppure nelle vesti dell'enigma, delle sincroniche coincidenze come in giallo senza soluzione, il codice per avanzare una verità alternativa sulla vicenda, mettendo l'immaginazione al servizio del vero. Anche nell'affermoro la complessa trama intertestuale, un altissimo e singolare quotiente di letterarietà e di esperienti retorici si intrecciano alla dimensione argomentativa della scrittura di Sciascia. Le citazioni, la memoria letteraria, come in tutte le sue opere, giocano in questo senso un ruolo fondamentale, come in un palinsesso di scritture e in un dialogo incessante che parte dall'epigrafe da Elias Canetti si trattava di momenti e figure richiamati alla mente del lettore in funzione di decretazione e di svelamento delle snodi più intricati del caso Moro. Si susseguono numerosissime citazioni implicite, camuffrate o esplicite, tratti da autori cari a Sciascia e funzionali a racconto, in evidente attrito con i linguaggi del potere, i comunicati dei terroristi, i comunicati stampa, il linguaggio del non dire. si trascorre da Pasolini a Pirandello e Giacomo De Benedetti e poi Edgar Allan Poe, Foscolo, Montale, Ungaretti, eccetera, fino alla chiusura dell'opera tratta da Borges, da Finzioni. Questa frase lascia capire che la soluzione è sbagliata. Il lettore, inquieto, rivede i capitoli sospetti e scopre un'altra soluzione, la vera. L'intarsio dei riferimenti intertestuali e il sistema associativo messo in moto del personale canone letterario ciasciano sono sorprendenti. Questa sorta di letteratura al quadrato o potremmo dire al cubo che attraversa l'affer sin dalle prime pagine dedicate, come ricordiamo, a Pasolini si accompagnava al montaggio e allo smontaggio dei documenti relativi al caso Moro assumendo così una funzione civile tendenzialmente performativa. Nell'affer Ciasci affida a noi lettori il compito di sostenere lo sguardo sul lato tragico e mortifero del presente rintracciandone le mosse rituali quasi metafisiche del potere e ricorreva per metterlo in chiave non solo alle sollecitazioni che gli venivano dalla sua peculiare filologia morale ma anche alla forza trasfiguratrice e conoscitiva della letteratura al patrimonio di una nobile tradizione e culturale per me annotava Ciascia e mi ho avuto piena coscienza da quando ho finito di scrivere sulla scomparsa di Majorano la letteratura è la più assoluta forma che la verità possa assumere mi pare sia evidente la distanza tra questa idea di letteratura e le poetiche del postmodernismo italiano che stavano iniziando a influenzare tra gli anni 70 e 80 del 900 le opere narrative di Italo Calvino di Umberto Eco di Antonio Tabucchi e degli altri autori delle nuove generazioni il postmodernismo come è stato detto è una risposta difensiva ed è potenziata della letteratura nel tempo del suo declino assumeva le forme di un manierismo ora hilare ora malinconico e consolatorio nel quale le strategie citazionistiche e il dialogo con i modelli della tradizione restavano per lo più imprigionati nello spazio autoreferenziale del gioco letterario al contrario la letteratura per Ciaccia continua ad avere una funzione polivalente la memoria e la tradizione letteraria nutrivano la religiosità profonda che emana dall'affermoro come nella scomparsa di Majorana riuscivano a penetrare nel dramma del personaggio l'uomo solo e nella tragedia umana e politica racchiusa nella vicenda e soprattutto venivano piegate a una funzione conoscitiva eminentemente pedagogica civile la letteratura la tradizione letteraria assolvono il compito di decifrazione di agnosi sintesi del reale verso la possibile restaurazione della verità dalla parte dei vinti degli offesi o dei sommersi come sappiamo l'affaire è anche il frutto di un profondo turbamento Ciaccia prende coscienza della capacità di certa letteratura nel prefigurare e precorrere in negativo la realtà storica la letteratura viene vissuta nella sua natura di costruzione di mondi possibili nel suo destino straniante ma attendibile di testimonianza sintomo o documento ciò che si scrive accade oltre ai suoi gialli politico-metafisici degli inizi degli anni 70 Ciaccia si riferiva alla scrittura Cossara di Pasolini e in filigrana alla sceneggiatura anticipata della morte disseminata tra i testi della sua opera perché l'impressione che l'affermoro sia già stato scritto che vive in una sfera di intoccabile perfezione letteraria che non si possa che fedelmente riscriverlo e però riscrivendolo mutare tutto senza nulla mutare lasciata insomma alla letteratura la verità quando dura e tragica apparve nello spazio quotidiano e non fu più possibile ignorarla o travisarla sembrò generata dalla letteratura coinvolto nelle consuete polemiche bellettristiche che circondavano l'uscita del pamflet in quegli anni della storia italiana da lui definiti terribili Ciaccia insisteva con candore sulla forza di verità che può contenere la parola letteraria rivendicando tutto il potenziale antagonista della letteratura che non abdicava alla sua missione civile l'ipotesi è verificabile inoltreandosi nelle strutture narrative e nei meccanismi formali del giallo politico-metafisico dal contesto al trittico degli ultimi anni di vita quella del giallo inteso come exemplum apologo parabola trattato politico sulla storia d'Italia e una vocazione profonda della sua opera come sappiamo corre in parallelo e si mescola alla scrittura microstorica ed inchiesta come dentro una officina sperimentale di scritture in cui si intrecciano e dialogano generi temi metodo o procedimenti ricorrenti quei libri erano proiettati a uno scandaglio vertiginoso del nuovo volto molecolare del potere e nella crescita esponenziale del loro valore allegorico producevano in forme narrative una riflessione sulla questione della giustizia e sulle vicende della storia italiana più recente sono saggi potenziali che si trasformano in racconti nelle strutture retoriche dei suoi gialli è possibile individuare il lavoro impuro che Sciascia compie sulle forme letterarie codificate e allo stesso tempo il valore e la funzione civile che assume questo impegno di aggiornamento e di revisione intorno alla tradizione letteraria lo stesso stile di Sciascia si svolge e si rinnova facendo registrare un innalzamento del tasso di figuralità fra complicazioni della sintassi iterazioni prolessi inversioni brachilogie torsioni della punteggiatura e intensificarsi delle costruzioni intertestuali e retoriche in modo da rispecchiare sulla pagina gli scarti tra l'esperienza della realtà e il linguaggio letterario al grado massimo della sua contrazione formale e nei suoi turbamenti ritmici espressivi che dovrebbe decifrarla e narrarla secondo un suo celebre aforisma che recita la nera scrittura pessimisticamente sulla nera pagina della realtà a emergere era la natura sperimentale della sua scrittura delle sue scelte espressive al servizio di un sempre più problematico impegno pedagogico e civile la descrizione di Pasolini dedicata a todo modo dalla quale siamo partiti ne traccia i confini alludendo alla visione quasi dantesca che Sciascia matura nei confronti del reale possiamo andare alla metà della citazione questo romanzo giallo metafisico di Sciascia scritto tra l'altro magistralmente è anche credo una sottile metafora degli ultimi trent'anni di potere democristiano fascista e mafioso con un'aggiunta finale di cosmopolitismo tecnocratico si tratta di una metafora profondamente misteriosa come ricostituita in un universo che elabora fino alla foglia i dati della realtà al di là dei veri e propri luoghi comuni sulla fantomatica lacunicità sulla presunta trasparenza dello stile di Sciascia forse dovremmo ragionare con maggiore profitto sulla sostanziale polifonia sul dialogismo della sua scrittura lo suggeriva Emanuele Zinato in un suo intervento durante una delle recenti letture Massimo Bordin dovremmo insomma insistere sulla natura volutamente sospesa imperfetta e inconclusa delle strutture narrative e argomentative delle sue opere letterarie nei gialli Sciasciani registriamo la presenza di meccanismi simbolici e formali che è possibile ricondurre allo sperimentalismo che stiamo individuando come cifra unitaria della sua scrittura moderna o neomodernista lo svuotamento il prosciugarsi della trama la disarticolazione degli intrecci la consecuzione enigmatica dei fatti narrati e il non finito si associavano a specifiche modalità retoriche come le ellissi le andirivieni temporali a scapito dei messi causali e la messa in scena delle slogature le fitte campate argomentative le infrazioni della linearità narrativa l'insinuarsi dell'indiretto libero del monologo interiore facevano inclinare le forme brevi della sua prosa narrativa verso i territori del romanzo saggio la vana ricerca della verità dei fatti la sconfitta impossibile del male ormai ramificato e pervasivo ben più dei crimini delittuosi narrati nei gialli tradizionali si riflettono nel capillare rovesciamento straniante parodistico delle modalità espressive codificate nello svuotamento corrosivo di ogni pretesa una verità pacificata consolatoria e rassicurante che invece conteneva e contiene per statuto e convenzione il genere del giallo o del poliziesco come noto è un meccanismo parodistico estraneante che coinvolgeva per via esplicita anche i titoli antifrastici dei suoi gialli sulla soglia di quei testi quindi sappiamo tutti che il contesto avrà per sottotitolo una parodia il cavaliere la morte sottì scherzo di fronte alle manipolazioni e alla violenza mortifere del potere tra complotti omicidi seriali depistaggi fanatismi e diritti di stato Shasha contrapponeva nelle sue parabole narrative una speculare decostruzione applicata al genere del poliziesco perché a vedere bene già nel giorno della civetta e poi vertiginosamente nel contesto così come in todo modo o nel cavaliere la morte la soluzione non è data o meglio ancora il delitto rimane impugnito depenalizzato e la trama di quei testi resta misteriosamente aperta e inconclusa nella sua opera letteraria sempre più sospesa e in bilico tra romanzo e antiromanzo tra narrazione e saggismo Shasha continuava a tenere in vita e a rinnovare profondamente i modelli della tradizione ma il vincolo di partenza della sua scrittura è pur sempre di natura civile la restituzione letteraria della presenza del male dell'ingiustizia e dei riti del potere che danno forma al lato oscuro della realtà Shasha continua a credere nel valore sociale e conoscitivo della letteratura nella tradizione dreyfusarda dell'intellettuale moderno che ha sempre avuto il compito di contrapporsi al potere se Pasolini in questi stessi anni si espone opponendosi pubblicamente al nuovo fascismo e all'universo orrendo della società italiana con lo scandalo del suo corpo e della sua opera multigenere dal cinema al teatro di parola dalle ultime raccolte poetiche a petrolio passando per gli scritti corsari e le lettere luterane potremmo dire che Shasha gioca le sue carte di intellettuale eretico e corsaro sul piano della provocazione e dell'intelligenza un'intelligenza disorganica e spregiudicata da sempre orgogliosamente strania a ogni forma di iscrizione a una logica di gruppo o di partito per refrattare alle ideologie così come alle poetiche letterarie esplicite o precostituite questa autonomia professata da Shasha in sede di partecipazione politica alla storia a lui contemporanea nella sua stessa attività letteraria non va confusa con una indifferenza nei confronti della ricerca della verità è il lettore dei suoi gialli ad essere investito dal compito di partecipare attivamente per congetture e approssimazioni successive alla ricerca di una soluzione non rivelata e mai definitiva come per la sua esperienza di riscrittura storica e giudiziaria nella quale lo scrittore assurge o si riduce al ruolo di detective derogando le regole convenzionali dell'inchiesta documentaria e chiama noi lettori a partecipare attivamente alla ricerca del vero così anche il lettore dei suoi gialli si troverà di fronte a congeni narrativi anomali e inclassificabili che infrangono la cosiddetta grammatica poliziesca e noi lettori saremo coinvolti nell'orizzonte dell'inchiesta tra complicati paradigmi iniziari e labili tracce di verità da decifrare e interpretare e qui sto pensando non solo ai finali aperti dei suoi gialli ma anche alle cicatrici all'indizia ai dettagli disseminati in quei testi come i rimandi alla cultura visuale ne ha parlato da per suo Maria Rizzarelli nella prima lezione sciasciana il fitto dialogo intertestuale l'uso dei toponimi degli antroponimi eccetera allora sto per concludere questa operazione di riscrittura della tradizione letteraria del moderno da forma all'inchiesta senza prodo della sua scrittura verità un'inchiesta come abbiamo visto che prevede il coinvolgimento attivo del lettore nel processo ermeneutico e che si situa al di là di ogni facile realismo si ricordi la frase appunto di Pasolini un universo quello costruito dalle opere di Sciascia che elabora fino alla follia i dati della realtà vivere la consapevolezza la consapevolezza del declino della tradizione umanistica dell'esaurimento della tradizione del moderno non comportava una strategia difensiva all'insegna della chiusura o di ripiegamento della letteratura dentro i suoi stessi confini così come esprimere i dubbi i limiti e le sconfitte della ricerca della verità non significava arrendersi alla crisi della ragione qui Sciascia mi pare di poter dire si distingue ancora una volta dalla parabola discendente del suo amico Calvino e dalle poetiche del postmodernismo che prendevano piede in Italia tra anni 70 e 80 affidare un primato conoscitivo alla funzione critica liberatoria sapienziale della letteratura intesa in tutte le sue forme come codice o dispositivo col quale mettere in mostra il male la violenza e l'ingiustizia che abitano in reale significava per Sciascia promuovere l'inquietudine del dubbio e non solo le esitazioni di una ragione in crisi significava incalzare il lettore sollecitando nell'angoscia nei confronti del presente e l'impegno nel decifrarlo e giudicarlo la rilettura della tradizione del moderno e questo progetto letterario e intellettuale fuori dal mio realismo codificato diventano fino alla fine della sua vita gli strumenti elettivi per provare a coniugare sperimentalismo e tradizione scrittura impegno civile utopie e disincanto per concludere rivolgiamoci all'ultimo decennio della sua vita della sua opera letteraria ma davvero in breve la confusione è una parola chiave disseminata da Sciascia fra i testi che compongono l'ultimo tempo della sua opera dato da un modo al cavaliere la morte passando per l'affermoro è nero su nero qui vi ho inserito una citazione che proviene appunto dal finale del cavaliere della morte era la cifra provvisoria ed empirica per tentare di orientarsi nel mutato contesto del tempo dentro scrive Sciascia una più vasta e disperata visione delle cose italiane emergeva un senso di spaisamento dentro il quadro di una posizione radicale al proprio tempo sempre sul confine di uno scetticismo assoluto che diveniva sgomento esistenziale privato retrospettivamente a guardare la sua opera nella temperia culturale tra la metà degli anni settanta e la conclusione degli anni ottanta è facile intravedere tracce che ne indicano l'affiliazione dallo spirito del tempo con i suoi risvolti tragici e ancora irrisolti è possibile riscontrare nella postura dell'ultimo Sciascia un avvicinamento a quei resistenti presupposti ideologici che informavano certe residue e solitarie battaglie critiche del periodo come era stato per l'ultimo Pasolini un pessimismo radicale a tratti perentorio di apocalittico che tenta di scartare dalle punte di moralismo risentito o dai rischi dell'isolamento individuale ma in ogni caso sembra ormai insensibile ai progetti di realizzabilità del cambiamento o all'attesa alla promessa di futuro eppure Sciascia continuava a tenere vivo il dialogo con una nobile tradizione filosofica e letteraria dall'illuminista Stendhal da Manzoni e Leopardi agli scrittori spagnoli da Pirandello a Brancati da Savinio a Borges e perturbato da un crescente pessimismo che arrivava all'ambiria anche il piano esistenziale della sua vicenda umana rivendicava fino alla fine della sua vita una peculiare idea di letteratura intesa come sede o strumento di verità uno spazio pubblico per esprimere l'ansia di verità e di giustizia è una dolente e solitaria religione delle lettere in abiti civili che l'autore piegava o intrecciava a una lucida e impaziente ricommissione della materialità degli eventi del destino dell'uomo e del nostro presente nel fitto di una tendenza alla solitudine che tuttavia non abitava la militanza politica il partito radicale la commissione Moro e all'impegno civile le polemiche giornalistiche in un fondale apocalittico o malinconico di cose ultime nel quale si specchiavano la percezione delle trasformazioni del potere e i mutamenti nel campo della letteratura dell'attività intellettuale Shasha rispondeva con la sperimentazione innovativa di generi e forme di tipologie di pensiero che conservano un radicamento significativo nelle traiettorie della modernità una precisa idea di moderno in definitiva da intendere come attitudine a rinnovare la letteratura e a sperimentare nuove forme letterarie mantenendo ferma la loro funzione civile ed emancipatrice per tutto questo forse si può sostenere che è stato il nostro ultimo grande scrittore moderno vi ringrazio per l'attenzione siamo noi che ringraziamo te per questa bellissima lezione che ha collocato Shasha all'interno di questa generazione particolare veramente speciale degli scrittori nati negli anni venti ma ha anche sottolineato la sua originalità tutto sommato nella sua specificità perché insomma questa categoria dello sperimentalismo che tu hai molto giustamente evidenziato messa insieme direi alla sua capacità di continuare a credere nella letteratura ma nel valore civile della letteratura mi sembra che siano veramente una nota insomma una cifra originale anche rispetto al grande nome di Pasolini insomma che forse non ha mantenuto questo parallelo diciamo parallelo fiducia nella letteratura a un certo punto sembra quasi aver dovuto certo suo malgrado però rinunciare a questa idea insomma la scrittura non era più per lui quello che invece è rimasto per Shasha grazie ma ci sarebbero tante cose da dire ma non voglio invadere lo spazio per cui passo ora la parola Andrea Verri per la sua conversazione sul consiglio d'Egitto impegno e autortura Andrea a te la parola grazie mille mi sentite sì mi senti sì ti sentiamo bene allora grazie mille anche al professor Moliterni che ha inquadrato perfettamente Shasha io mi occuperò di una cosa un po' più limitata che però diciamo dovrebbe essere in perfetta sintonia con quanto ha detto il professore allora nel consiglio d'Egitto la parte finale del romanzo racconta sostanzialmente la la cattura la tortura e la condanna a morte di dell'avvocato di Blasi perché aveva organizzato una congiura di tipo diciamo Giacobino e è probabilmente questo momento della culminante della narrazione e anche della partecipazione emotiva da parte del lettore nel corso del racconto dell'ultima tortura inflitta di Blasi il narratore fa un suo raro intervento un suo raro intervento diretto lo leggo velocemente è molto famoso questo intervento nasce dai pensieri e dagli ideali del personaggio contrario alla tortura e la disperazione avrebbe accompagnato le sue ultime ore di vita se soltanto avesse avuto il presentimento che in quell'avvenire che vedeva luminoso popoli interi si sarebbero votati a torturare altri che uomini pieni di cultura e di musica esemplari nell'amore familiare e rispettosi degli animali avrebbero distrutto milioni di altri esseri umani con implacabile metodo con efferata scienza della tortura e persino i più diretti eredi della ragione avrebbero riportato la questione nel mondo si fa riferimento alla Shoah si fa riferimento al fatto che i francesi in Algeria e in realtà anche in Francia durante la guerra d'Algeria praticarono la tortura la questione è la traduzione del titolo francese la questione di un libro scritto da Henri Allègue Henri Allègue era il direttore di Alger Repubblicain e viene catturato dall'esercito francese e torturato ad Algeria è un libro che fa di denuncia che ha la del 58 esce prima in francese e poi in italiano per Einaudi con il titolo La Tortura all'introduzione di Sartre ora vi sono delle somiglianze tra quest'ultima parte del romanzo di Sciascia e quanto scrivono Sartre nella sua introduzione e quanto scrive Allègue nel suo testo queste somiglianze le ho più o meno diciamo raggruppate in tre tipi quelle che riguardano chi pratica la tortura o comunque vi collabora quelle che riguardano le pratiche della tortura e i loro effetti e quelle che riguardano chi viene torturato cioè di Blasi e Allègue velocemente accenno al primo gruppo di somiglianze e leggo un passo di Sartre dall'introduzione di Sartre in cui dice nel 1943 in via Lory Stone erano dei francesi a gridare d'angoscia e di dolore ma una sola cosa ci pareva comunque impossibile che si sarebbero fatti urlare altri uomini un giorno in nostro nome chiaramente si fa riferimento alle torture naziste fatte ai francesi durante l'occupazione nazista e durante la guerra interessante perché il commento precedente di Sciascia cioè qui ho fatto precedentemente riferimento del narratore nel consiglio di Egitto ha di fatto una riscrittura di questa frase sartriana in quanto chi scrive nel presente racconta il passato e dal passato dice come allora ci si immaginava il futuro Sciascia o come allora fosse impensabile un certo futuro Sartre in entrambi i casi oggi il presente era radicalmente diverso da ciò che ci si figurava tanto da mettere in dubbio il senso delle lotte delle sofferenze passate richiami ai nazisti si trovano anche proprio nella testimonianza di Alleg perché gli stessi torturatori fanno riferimento alle torture dell'ASS o della Gestapo e è interessante perché anche in un altro volume di denuncia dell'anno seguente quindi del 59 prima è uscito in Francia poi è uscito in Italia sempre per i Naudi la Tancrena la Gangarin in francese si racconta vi sono le testimonianze di giovani algerini torturati a Parigi e anche i loro torturatori fanno riferimento ai nazisti torturatori non siamo però certi che Shasha abbia letto mentre siamo certi che ha letto il libro con l'introduzione di Sartre non siamo certi che abbia letto l'altro libro anche se tutto sommato è abbastanza probabile e vi sono poi delle altre somiglianze che riguardano sempre i torturatori Di Blas osserva come sono degli uomini come lui degli uomini normali e anche Shasha nel commento del narratore osserva come questi uomini sono amanti della musica sono esemplari uomini di famiglia alla stessa maniera Sartre nel suo introduzione dice quando eravamo noi francesi a essere torturati osservavamo i soldati tedeschi e si pensava eppure sono uomini che ci rassomigliano dopo pochi anni appunto i francesi 15 anni i francesi torturano e dice Sartre basta l'occasione a trasformare la vittima in carnefice sarebbe troppo fortuna se questi delitti fossero l'opera di un pugno di pazzi alla stessa maniera ci sono poi alcune altre somiglianze i giudici di Di Blasi si girano quando vedono gli effetti della tortura sul corpo di Di Blasi e in un caso uno di questi giudici invita a far presto perché sente l'odore che gli dà della carne bruciata che gli dà il volto a stomaco alla stessa maniera un torturatore di Alleg dice di essere infastidito dalle urla di Alleg e invita gli altri torturatori a bavagliarlo e alla stessa maniera poi quando in un'altra occasione lui è vestito bene il torturatore è vestito bene forse per andare ad una festa quando ha l'impressione che Alleg stia per sputare si allontana sostenendo che non sia igienico quindi in entrambi i casi sia nel testo francese che nel romanzo italiano come dire questi torturatori si preoccupano del loro fastidio e non della sofferenza dei torturati infine passiamo poi appunto al secondo gruppo di somiglianze quello che riguarda le pratiche di tortura e i loro effetti tutti e due sia di Blasi che Alleg vengono catturati in un tranello la cosa un po' strana effettivamente è che il tranello in cui cade di Blasi tutto sommato non sembra molto motivato nel racconto nel senso che i sbirri insomma vanno a casa sua trovano la madre anziana non lui che è in passeggiata e escono invece di aspettarlo dentro come sarebbe normale tra l'altro dando la possibilità alla madre di bruciare alcune carte escono e si nascondono per aspettare di Blasi forse questa cosa che a me pare non del tutto motivata proprio è dovuta al modello del tranello in cui cade Alleg sia di Blasi che Alleg ad un certo punto hanno una fortissima sete dice Shasha che di Blasi aveva una sete disperata vede di Blasi la cannata dell'acqua ma non si non ce la fa ad alzarsi la vede da distante e perché soffre troppo ad alzarsi a causa del fatto che gli hanno dato il fuoco ai piedi Alleg a causa delle scosse elettriche ha la lingua le labbra la gola le hanno seccate e a quel punto un aguzzino gli mostra l'acqua ma non gliela dà da bere apposta e chiama questa roba supplizio di tantalo è interessante questa cosa perché Shasha praticamente disegna un supplizio di tantalo con di Blasi nel Consiglio d'Egitto tutti e due ad un certo punto smettono di sentire in un qualche modo il dolore a proposito degli effetti della tortura e poi c'è una cosa molto interessante per quanto riguarda la partecipazione della medicina nel Consiglio d'Egitto l'ultima tortura a di Blasi prima della quando già è condannato a morte ma è previsto che debba fare un'ultima debba sopportare un'ultima tortura il medico ci viene detto da vari personaggi è contrario all'uso del fuoco e propone una tortura più lieve perché ha paura che muovia prima della condanna a morte prima della condanna a morte è interessante questa cosa perché probabilmente il medico non intende risparmiare dolore a di Blasi ma semplicemente vuole che arrivi vivo alla condanna quindi in qualche modo una partecipazione della medicina alla tortura ma piuttosto limitata cambia completamente il ruolo della medicina nel nel libro francese Allègue praticamente viene sottoposto al siero della verità quando glielo danno glielo somministrano sostanzialmente lo portano appunto in viene somministrato con un medico che quindi collabora pienamente e gli dopo averglielo somministrato gli cura le ferite insomma dovute alle alle torture precedenti poi lo riportano una seconda volta in in infermeria e non gli non gli fanno niente semplicemente lo curano è interessante quello che pensa Allègue Allègue pensa a due cose che lo vogliono far star meglio o perché lo stanno per uccidere e quindi vogliono cancellare le prove della tortura o perché poi lo sottoporranno di nuovo a tortura e è interessante questa cosa perché quindi nel novecento la medicina collabora nel novecento in cui dice la tortura ormai è elemento dell'esistenza lo dice non più elemento del sistema giuridico lo dice nel commento che vi ho letto prima del narratore la tortura elemento dell'esistenza perverte di fatto la medicina in maniera molto più forte di quanto possa fare nel settecento e non solo ma è la medicina che rischia di realmente di far sì che la la tortura diventi l'esistenza perché se si può torturare una persona con la medicina farla star bene e poi di nuovo torturarla di fatto si immagina una tortura che non ha mai fine che diventa l'esistenza grazie alla medicina del resto Shasha lo dice la la tortura nella contemporaneità è fuori dal sistema giuridico e quindi ovviamente è incontrollabile mentre durante il sistema giuridico se è parte del sistema giuridico è controllabile questa cosa Shasha là ben presente siamo sicuri perché lui è come ci ha ricordato prima il professore un grandissimo lettore rilettore se vogliamo anche più o meno imitatore diciamo della storia della colonna infame di Manzoni e nella storia della colonna infame il secondo e il terzo capitolo sono dedicati da Manzoni a dimostrare che c'erano gli strumenti giuridici diciamo da parte del sistema in vigore fino al 1600 che avrebbero dovuto impedire che accadesse quello che poi è successo con gli untori del resto ovviamente nel Shasha va ben presente nel sistema giuridico dopo la rivoluzione francese dopo l'antico regime dopo l'illuminismo la tortura non può che essere fuori dal sistema giuridico la presenza della medicina quindi nel settecennio nel racconto che fa Shasha inevitabilmente ci richiama quello la presenza della medicina nel testo di Alleg passiamo all'ultima diciamo gruppo di somiglianze che ho individuato ed è quello che riguarda i torturati ed è la parte più bella forse più appassionante del Consiglio d'Egitto che è un romanzo molto che coinvolge molti lettori soprattutto in quest'ultima parte Di Blasi resiste lui dice ottenuto e dice esattamente come Alleg Alleg resiste alla tortura Di Blasi dice io resistendo insieme agli altri che hanno resistito appartendo la dignità umana Sartre nell'introduzione dice che Alleg che i torturati francesi durante la seconda guerra mondiale che resistevano non giudicavano non si permettevano di giudicare i quanti non resistevano ed è esattamente ciò che fa Di Blasi Di Blasi ha pietà ha rimorso per quei torturati che lui stesso ha coinvolto e ha rimorso di averli coinvolti perché non erano in grado di resistere alla tortura perché si odieranno per non aver resistito e perché odieranno Di Blasi per averli coinvolti Sartre nella sua introduzione dice che Alleg con la sua resistenza con il racconto della sua resistenza garantisce testimonia che cosa che è evitabile per il predominio dell'inumano cioè della tortura a cui tutti rischiano di soccombere di cui tutti possono macchiarsi Alleg permette ai francesi di ritrovare cito un poco della nostra fierezza dimostra che la tortura cito è solo un crimine ignobile lurido che altri uomini ancora possono e debbono reprimere Sartre dimostra questo discorso di Sartre evidentemente richiama la dignità umana di Di Blasi Alleg nella sua testimonianza dice incontrando i torturati di essere fiero e di sentire la solidarietà l'amicizia e la fiducia da parte degli algerini torturati come lui che incontra che incrocia a volte nel luogo in cui è detenuto e dice proprio di essere esaltato dal pensiero che andavo alla morte come mi ero sempre augurato fedele al mio ideale e ai miei compagni di lotta questa frase potrebbe tranquillamente riferirsi a Di Blasi a essere detta da Di Blasi anche se in Di Blasi diciamo il senso di trionfo è decisamente diciamo di sì di fierezza è meno presente diciamo perché effettivamente lo spazio che dedica a chi ha resistito è lo spazio di pietà che dedica a chi non ha resistito è più o meno lo stesso Di Blasi non incontra nessuno nel carcere ma è interessante non incontra compagni in realtà non incontra uno a distanza appunto Alleg dice che quando incrocia i suoi piaggerini prova a sente la loro solidarietà l'amicizia la fiducia si dice fiero di stare dalla loro parte c'è un incontro simile nel consiglio d'Egitto nel consiglio d'Egitto Di Blasi e Bella si salutano da distante Bella nel tetto siamo alla fine del romanzo in uno degli ultimissimi capitoli si salutano da distante perché hanno avuto tramite un intermediario la notizia che che Bella voleva salutarlo Bella è una specie di sodale diciamo alla fine del romanzo è ormai un amico e tutto sommato è vicino a Di Blasi si salutano da distante e dice Bella che vedendolo da basso vivendolo dall'alto gli parve riacquistare la sua statura in un qualche modo un riconoscimento e come Alleg riconosceva la solidarietà l'amicizia e la fiducia in un qualche modo si sente fiero in un qualche modo anche qui il personaggio nell'incontro acquisisce diciamo questa caratteristica qui siamo alla fine del romanzo Di Blasi è nel cortile e sta per montare nella carrozza e poi verrà portato dove verrà torturato l'ultima volta e quindi poi giustiziato è interessante perché Alleg nel penultimo capitolo della sua dichiarazione racconta quando nel cortile dove viene tenuto dove viene recluso e torturato vede una macchina allontanarsi con dentro il suo amico Oden che verrà ucciso e quindi la cosa è molto simile a quanto poi racconta Shasha e alla fine proprio nell'ultimo capitolo Alleg racconta dell'esecuzione nel cortile di tre algerini tutti e due sono molto lucidi poi nell'affrontare la situazione hanno sempre il controllo razionale della situazione e cercano di resistere al dolore con cosa? con il ricordo con il ricordo di ciò che hanno letto con il ricordo anche di con il ricordo di alcune cose della loro vita soprattutto di Blasi e adesso vi dico le varie cose perché non c'è il tempo comunque dice Sartre parlando di Allegra che dimostra calmo coraggio modesta e lucidità ed è esattamente lo stesso comportamento di di Blasi tutti e due fanno riferimento alla memoria cercano di ricordare e di mantenere il controllo razionale ovviamente di Blasi ricorda dei poeti proprio si usa strumentalmente la memoria per resistere al dolore dei poeti Allegno è in linea con il tipo di personaggio che sta costruendo Shasha ovviamente concentrarsi sul ricordo di poesie e e anche con alcuni aspetti metaletterali che ci sono nel romanzo e sicuramente ci sono altri modelli altri fonti a cui sta pensando Shasha per il ricordo dei testi di poesie probabilmente Julien Sorel del Rosso e Nero Julien Sorel quando è condannato e sta aspettando di fatto ricorda poesie che ha imparato in più occasioni dice ah ecco una cosa divertente da quando devo morire tutti i versi imparati nella mia vita mi tornano alla memoria bene per quanto riguarda questa prima parte concludiamo con un aspetto molto generale Sartre nella sua introduzione dice che i lettori si incarnano in Alleg lo accompagnano su nel passo estremo della sofferenza e si domandano cosa avrebbero fatto loro e questo è proprio ciò che fa Shasha nel racconto della tortura di Di Blasi fa sì che il lettore lo accompagni e si domandi cosa avrebbe fatto lui e si imbedesimi con loro bene è la foto di allora questa è la prima parte dell'intervento in cui ho confrontato questi due testi adesso vorrei un attimo riflettere su che cosa può dirci questo confronto del tipo di romanzo che è il Consiglio d'Egitto il Consiglio d'Egitto è un romanzo storico vuole essere un romanzo storico è un romanzo con tratti saggistici come tutta la narrativa e Shasha in un'occasione vuole fare un esempio di come la sua narrativa è saggistica fa riferimento al Consiglio d'Egitto fa proprio riferimento al richiamo alla guerra d'Algeria i critici che hanno studiato questo romanzo due dei più importanti Ambroas e Trein hanno individuato che comunque questo è un romanzo storico molto particolare non è il semplice risultato di invenzione e storia è una reinvenzione del romanzo storico sia Treina che Ambroas lo dicono e in modo particolare Ambroas poi dice che nel falsario Vella Vella è chi sostanzialmente reinventa due codici uno del periodo arabo uno arabo-normanno e lì praticamente uno è una falsificazione di un codice che però si occupa di tutt'altro l'altro proprio della reinvenzione di un codice e fa dei falsi è stato notato già e Ambroas sicuramente uno dei più bravi a individuarlo individua che nella figura di Vella Shasha rappresenta la fantasia che grazie alla promozione del linguaggio il significante può fagocitare il reale la fantasia in Vella si esplica nell'aggressione dei segni del linguaggio in pratica Shasha raffigura come già detto anche altri critici in Vella quello che sarà la sua pratica letteraria cioè la letteratura come ha detto prima il professore come riscrittura come reinvenzione di testi ma che è in grado di interpretare profondamente il reale quasi di reinventarlo di fatto è così di arrivare alla verità e senza mai abbandonare ovviamente l'aspetto diciamo etico e morale della letteratura ora per quanto riguarda quello che abbiamo detto cioè il fatto che il rapporto tra il libro francese e il consiglio d'Egitto possiamo dire che il consiglio d'Egitto sembra essere in quelle parti in cui abbiamo parlato una riscrittura del testo francese e quindi rientra perfettamente questa pratica letteraria nella pratica nella teoria letteraria shashana di riscrittura dei testi che sarà marcata evidente ribadita e praticata soprattutto negli anni 70 negli anni 80 ma che viene già messa diciamo raffigurata in vella nel consiglio d'Egitto e in realtà anche già praticata nel consiglio d'Egitto non solo per questo caso in realtà che ho messo in evidenza io perché già nel consiglio d'Egitto ci sono pratiche di riscrittura già notate da altri studiosi Traina osserva come in realtà appunto già nel consiglio d'Egitto sia la pratica scrittoria sia più avanzata della teoria cioè shasha nei saggi sul romanzo storico e sul gatto pardo che sono più o meno coevi a quelli alla scrittura del consiglio d'Egitto è più conservatore più meno avanzato rispetto alla pratica che hanno il consiglio d'Egitto nel saggio nel saggio Verga e il risorgimento dice shasha del romanzo storico il passato vi è rivissuto in funzione del presente passato che si fa presente e quindi diciamo normalmente i promessi sposi in realtà possiamo dire che con questa riscrittura di sicuro è vero quanto dice Traina shasha è più avanti nella pratica perché nel momento in cui riscrive di fatto il testo di Alleg non è tanto il passato che si fa presente ma ancora più il presente con la riscrittura si fa passato si scrive un testo del presente per raccontare il passato e quindi avviene quel lavoro di aggressione alla lingua e si fagocita la realtà quindi in realtà la citazione nascosta del titolo tradotto da francese in italiano che abbiamo visto e la riscrittura precisa di quella frase di Sartre a cui abbiamo già fatto riferimento prima diventano quindi degli indizi di proposito lasciati che spingono a considerare il racconto della fine della vita di Giblasi come una riscrittura lasciati di proposito dall'autore del resto questo momento culminante vi si diciamo vi si potrebbe condensare il senso del romanzo che individua Traina un gruppo un grumo di speranza che malgrado tutto l'autore si sente ancora di comunicare al lettore in realtà il grumo di speranza non è tanto nel contenuto del commento del narratore ma è il fatto stesso che il narratore si ponga e faccia il commento cioè se oggi c'è una voce che denuncia la tortura pur parendo la tortura totalizzante allora esiste la ragione perché qualcuno la pone e la dice la letteratura è comunque sempre collegata all'impegno e adesso vorrei affrontare questo aspetto facendo riferimento ad alcuni testi che sono successivi di una decina d'anno al Consiglio d'Egitto in particolare un testo di un appello al voto del 75 per il Consiglio Comunale di Palermo nel 75 Sciascia si candida nelle liste del PC come indipendente per il Consiglio Comunale di Palermo dopo poco si rimetterà in polemica perché non è soddisfatto della situazione credeva fosse diversa e non lo era e però al momento delle elezioni fa un appello molto bello in cui spiega il motivo per cui si candida e per spiegarlo dice devo farvi la storia dell'impegno degli intellettuali e quindi racconta il Jacques Chouze di Zola e dice che Zola raccoglie con questo appello la parte migliore degli intellettuali francesi e dice anche che in realtà con Zola si opponeva a quella Francia che dice Chacha la sua generazione ha avuto ancora modo di vedere durante la seconda guerra mondiale cioè la repubblica di Vichy e dice Chacha anche durante la guerra d'Algeria e quindi questo testo in cui si teorizza l'impegno degli intellettuali praticamente fa riferimento all'Algeria dice Chacha in questo testo però attenzione dopodiché all'intellettuale è stato dato il ruolo di segnalazione di avvertimento ma dice Chacha non è che gli intellettuali capiscono meglio degli altri semplicemente dispongono degli strumenti per esprimere per rappresentare e dei mezzi per diffondere ciò che tutti capiscono e definisce dopodiché dice appunto fa un riferimento ad un episodio che gli è capitato per dimostrare che quindi tutti capiscono quello che anche gli intellettuali capiscono un episodio con un portiere e poi definisce gli intellettuali candidati col PC perché poi in realtà sono anche in altre liste in quell'anno nel 75 anche altri intellettuali non necessariamente strettamente legati alla sinistra come come altri insomma appoggiano o si candidano alle liste del PC dice questi intellettuali sono leggo parte di quelle radici da cui sorge quella che De Sanctis chiamava quella grande appreviazione del pensiero umano che è nella vita del popolo fa riferimento allo stesso passo a cui aveva fatto riferimento negli anni sessanta in Verga il risorgimento per spiegare l'importanza di Verga dice Verga era fondamentalmente come belli conservatrici ma ottiene il risultato di portare il popolo dei diseredati nel flusso della storia ponendolo nella luce della poesia come problema storico nella coscienza della nazione dell'umanità Shasha rivendica dunque un ruolo all'arte grazie ad essa i suoi mezzi si porta a coscienza e quindi annoda la letteratura e l'impegno nella sua esperienza e così va interpretato il il commento del narratore alle vicende di Blasi nell'appello del settantacinque Shasha non fa riferimento al fa un riferimento veloce ovviamente all'Algeria fa riferimento ovviamente al fatto che anche altri intellettuali invece seguirono Zola nell'Ottocento e è interessante perché perché in realtà anche per la vicenda d'Algeria gli intellettuali presero opposizione innanzitutto gli intellettuali francesi con il manifesto dei 121 manifesto appunto con il quale si un manifesto firmato anche da Sartre e da Maurice Nadeau che per coincidenza poi dal 66 sarà l'editor di Shasha sostanzialmente si si sostiene la necessità della non collaborazione alla guerra il manifesto nasce nell'ambiente vicino alla rivista di 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 Sartre alcuni intellettuali che l'hanno firmato francesi verranno poi perderanno il posto di lavoro verranno licenziati quindi subiscono delle ripercussioni pesanti è interessante Shasha sicuramente presente questo manifesto perché nel 60 in tempo presente di Chiaromonte e Sirone viene pubblicato un appello che si chiama diritto alla resistenza dichiarazione di solidarietà con gli intellettuali francesi nel quale appunto si difende il diritto alla disobbedienza ai comandi ingiusti e si manifesta solidarietà con gli intellettuali che avendo firmato il manifesto di 121 hanno avuto delle ripercussioni punitive repressive dice il manifesto pubblicato nella rivista italiana che sostanzialmente vi è il diritto alla disobbedienza di fronte a degli ordini criminali in tutti e che questo problema si pone in tutti i regimi sia in quelli occidentali sia in quelli di là dalla cortina di ferro sia in quelli i regimi totalitari fascisti nazista è interessante perché nel consiglio d'Egitto c'è un caso di rifiuto ad obbedire ad un ordine il principe del cassero viene incaricato da Monsignor Lopez da Monsignor Lopez di andare ad arrestare Di Blasi il principe del cassero si rifiuta di andare per amicizia ovviamente non per motivi ideologici dice di essere d'accordo con i motivi per i quali debba essere arrestato Di Blasi ma si rifiuta sarebbe quindi un caso diverso da quello novecentesco di rifiuto all'ordine però probabilmente viene come dire modellato sullo stesso problema cioè quello novecentesco perché perché Monsignor De Lopez Monsignor Lopez si infuria ovviamente per il rifiuto e dice Shasha non capisce cito perché un uomo dovrebbe privarsi del piacere di annettare un altro uomo perché pensa Monsignor Lopez vuol dire che allora questa persona che si è rifiutata ha la stessa colpa di chi non vuole andare ad annientare in realtà il termine annientare ci richiama inevitabilmente il novecento tant'è che Shasha nel commento del narratore per i nazisti usa il termine distruggere e poi è interessante come non solo questo ma anche il dopo il il principe del Cassaro dice Shasha si specchia nel suo gesto di fedeltà all'amicizia si specchia commosso il Consiglio d'Egitto è anche un romanzo sull'amicizia ma inizia a provare il principe del Cassaro sussulti di apprensione rifrazioni di paura perché teme che il suo gesto possa avere delle ripercussioni l'insinuarsi anche l'insinuarsi della paura francamente ci richiama regimi totalitari nella guerra d'Algeria quindi è presente nel testo del 75 abbiamo detto è presente nel Consiglio d'Egitto è presente anche nel 64 in una breve nota giornalistica di viaggio su un viaggio fatto da Shasha appunto nel 64 in Francia evidentemente il problema gli è ben presente gli è presente il problema l'ha colpito molto questo fatto delle torture d'Algeria e capiamo anche perché basta rileggere il commento del narratore nel commento del narratore non si dice i francesi torturano si dice i più diretti eredi della ragione che è un modo per far sì che il lettore si soffermi su chi sono questi diretti eredi della ragione sono i francesi non nominandoli far sì che il lettore si renda conto che addirittura appunto lì dove è nato l'illuminismo si continui a torturare è più o meno lo stesso ragionamento che fa che fa Sartre solo che Sartre dice ovviamente essendo francese avendo vissuto l'esperienza della presenza tedesca in Francia dice ovviamente fa riferimento all'esperienza nazista e non all'illuminismo Shasha lo racconta dal suo punto di vista e quindi deve prendere l'illuminismo prendere l'illuminismo in realtà aggiunge un elemento cioè a questo punto il quadro che tratteggia Shasha è forse più peggiore di quello che tratteggia Sartre perché aumenta individua un altro elemento che in teoria avrebbe dovuto impedire il ritorno della tortura nel testo nel testo del 75 nell'appello al voto non è per esempio il testo al voto non non presenta il riferimento a Sartre nell'appello al voto del 75 ed è anche comprensibile visto che si tratta di un appello elettorale non può far troppi esempi ovviamente ritorna però subito dopo Shasha in un in un altro testo meno noto è una risposta sempre del 75 di Shasha alle reazioni che ci sono state ad un appello per il voto che è probabilmente lo stesso appello di cui parlevamo prima in questo testo del 75 richiarisce le sue idee sugli intellettuali sull'impegno sono le stesse idee che dice più o meno in nero su nero che è più o meno coevo e ribadisce uno che in Italia l'intellettuale è ritenuto un fragile e prezioso imbecille cioè in Italia l'intellettuale non deve occuparsi di nulla e non deve far danni e quindi Shasha rivendica la possibilità di impegno invece per gli intellettuali dice che l'atto che fa lui e gli altri intellettuali a favore delle liste del PC del 75 è un atto disinteressato e quindi indipendente ribadisce la sua coerenza tra ciò che ha scritto e ciò che sta facendo candidandosi col PC perché dice se qualcuno pensa in base a ciò che ho scritto che io non dovrei ora candidarmi col PC vuol dire che non ha capito niente di quello che ho scritto io non rinnego dice lui nemmeno una virgola delle mie eresie quindi ribadisce la sua coerenza e dice mi sto candidando col PC e questo va avanto del PC perché il PC vuol dire che è sostanzialmente più democratico ed effettivamente Shasha in quell'occasione lì è convinto che nel PC in Sicilia adesso che c'è Occhetto sostanzialmente allora quando c'era Occhetto ci fosse un maggiore spazio di manovra poi cambia idea probabilmente ma non importa sempre in questo testo del 75 cita Manzoni e ironicamente che in due volte e tiene a ribadire che non sta citando Brecht chiaramente di nuovo per ribadire l'indipendenza e l'autonomia nella scelta dei suoi strumenti culturali rispetto al e a quanti si dicono di sinistra non fa riferimento a Sartre nell'appello al voto per i motivi che abbiamo detto probabilmente però ha sicuramente negli anni 70 ha ormai maturato una certa distanza rispetto a Sartre e lo dice chiaramente nell'81 in un'intervista all'Aiolo molto famosa dice che a Sartre riconosce la generosità la sua generosità nell'errore nello sbagliare ha dato questa generosità alla nostra generazione ci ha fatto sbagliare tante cose possiamo ricrederci ma non rinneghiamo quella generosità sua e nostra il termine generosità è un termine sartreano però e compare il famosissimo saggio di Sartre molto bello che si chiama Che cos'è la letteratura? questo saggio però appare in edizione prima edizione pubblicato dal saggiatore tuttora la prima edizione del saggiatore è del 60 sono gli anni del consiglio d'Egitto cosa intende adesso spero di spiegarlo adesso che non sono forse bravissimo cosa intende Sartre con generosità il rapporto tra lettore e scrittore che conduce alla radice morale della scrittura scrivere implica la libertà dell'artista e di chi usufruisce dell'opera la quale si realizza completamente solo se letta scrivere è un appello e fiducia reciproca dei due attori cioè lo scrittore e il lettore e rivela il mondo che a sua volta si rivela nell'azione per cui lo scrittore pone anche suscitando indignazione le ingiustizie perché vengano superate l'intervento del diretto del narratore nel consiglio d'Egitto è di vent'anni prima rispetto all'intervista all'Aiolo però dimostra sicuramente una incisività particolare e contiene una riscrittura sartriana come abbiamo detto per cui è un po' difficile immaginare che non risenta del saggio che cos'è la letteratura di Sartre e a ben vedere in questo saggio appunto Sartre si concentra sull'appello sulla generosità sulla fiducia reciproci tra lettore e scrittore e si sono centrali e riconducono all'impegno per cambiare il mondo e effettivamente se ci soffermiamo un attimo di nuovo sul commento del narratore ecco che scopriamo che questo intervento diretto del narratore interrompe la narrazione e quindi automaticamente si rivolge al lettore e quindi un invito rivolto espressamente al lettore è esattamente un appello al lettore un atto di fiducia in lui un atto di generosità e esprime la volontà e l'invito a cambiare il mondo insieme allo scrittore ecco allora che tutto sommato ci sembra di poter capire che l'influenza di Sartre sia ben presente nel consiglio d'Egitto al di là della riscrittura del testo con l'introduzione di Sartre attenzione in che cos'è la letteratura c'è anche in realtà ciò che a Sciascia non va più bene negli anni settanta di sicuro forse anche prima di finisco della concezione dell'impegno sartreano ed è chiaro che cos'è se l'impegno sartreano è inteso come disciplina di partito e quindi non è rivolta alla libertà e al senso morale che dovrebbero far tutt'uno con la letteratura diventa dannosa per Sciascia dice Sartre in che cos'è la letteratura che si può domandare allo scrittore perché hai parlato di questo piuttosto che di quest'altro e dal momento che parli per cambiare perché vuoi cambiare questo piuttosto che quest'altro se ci pensate un attimo le polemiche a cui è di fatto a cui a volte si espone ma a cui a volte viene di fatto costretto Sciascia a partire dagli anni settanta a partire dai suoi romanzi come Il Contesto o da sue posizioni pubbliche come quella sui giudici popolari del processo di Torino per le BR o quella per esempio per la Farmemoro sono proprio polemiche che nascono da attacchi simili al passo di Sartre in cui si chiede a Sciascia conto di ciò che ha scritto o che avrebbe scritto ho finito grazie anche a te Andrea di questa lettura suggestiva di una intertestualità ulteriore rispetto a così a tutti gli autori che in genere colleghiamo a Sciascia tu hai aggiunto insomma anche una nota una nota diversa hai approfondito questo aspetto su cui c'è possibilità di discussione di dibattito per cui chiederei ecco a qualcuno del pubblico o anche ai colleghi insomma che sono presenti se vogliono intervenire se vogliono appunto dire qualche cosa partecipare alla discussione io cederei volentieri la parola ad altri sì non abbiamo dei social domande quindi sono chi è collegato con noi sulla piattaforma potrebbe intervenire e parlare con i due relatori anche con il professor Moliterni Ricciarda scusa io stavo cercando di avviare il video ma me lo dà come disattivato dall'amministratore quindi volevo anche chiedere di intervenire ma non funziona il video allora vediamo se ti viene riattivato chi parlava si aspetta che rispondo un attimo Alessandro Cinquegrani e poi abbiamo Carlo Forte ecco qua bene Alessandro poi Carlo Forte a te Alessandro sì allora mi ringrazio per questi interventi secondo me molto interessanti molto stimolanti ci sarebbero tantissime cose da dire e di cui discutere e volevo fare una domanda sia a Fabio Moliterni sia ad Andrea Berri allora ho trovato molto interessante nell'intervento di Fabio l'idea anche di contestualizzare all'interno del contesto novecentesco appunto di grandi categorie devo dire che rispetto come parere personale direi sarei forse meno tranchando il giudizio negativo rispetto al postmoderno perché forse bisognerebbe capire come mai in Italia il postmoderno forse non abbia avuto così tanti esiti positivi però insomma nel mondo penso che abbia avuto in America soprattutto degli esiti eccellenti e molto interessanti però la cosa che ho notato particolarmente è che tu hai usato molte volte termini come etica serietà responsabilità che sono ovviamente termini importantissimi per Sciascia e per tutta l'epoca moderna ecco mi sembra che sempre per ritornare poi al tema dell'attualità di Sciascia che questi termini siano ritornati molto in voga molto di moda negli anni 2000 ecco quindi volevo chiedere se tu pensi che l'eredità di Sciascia poi sia in qualche modo raccoglibile da alcuni degli autori diciamo della stretta contemporaneità ecco quindi questa è la domanda che volevo fare a te e poi invece una piccola cosa che volevo chiedere ad Andrea che un po' si lega a questo e allora tra le cose tra le tante cose che hai detto interessanti adesso io ovviamente non vado nel dettaglio magari spero che avremo l'occasione di riparlarne perché alcuni temi come appunto anche il rapporto tra razionalità e tortura anche nella cultura francese se ci penso a Bataille Klosowski cioè ci sono molti autori da aggiungere diciamo all'elenco però appunto volevo chiederti una piccolissima cosa probabilmente perché mi ha colpito quando tu ricordavi quella osservazione di Sciascia durante la sua candidatura politica in cui diceva che tutti capiscono diciamo alcune cose ma non le sanno esprimere e mi veniva in mente il io so di Pasolini che invece dice una cosa completamente diversa cioè lui dice io so perché sono un intellettuale ed è magari un dettaglio però anche un modo di vedere forse di concepire la società molto diverso volevo chiederti insomma le cose si intrecciano anche volevo chiedere a voi un parere su questo grazie allora grazie a te ovviamente ho dovuto semplificare sappiamo come il dibattito su queste categorie è infinito e direi anche abbastanza stucchevole ormai e sicuramente io ho tenuto a precisare il postmodernismo italiano ha una diciamo ricaduta anche credo negli effetti proprio su sulle opere letterarie di tipo moderato o comunque come dire inferiore ai grandi scrittori americani diciamo io credo che tu ti riferissi per dire solo due a Fili Brotto a Don De Lillo che dagli anni 80 in poi è come se continuano a piegare la letteratura anche in un modo come tenevo a precisare visionario non strettamente realistico e comunque la legavano ad un tentativo di interpretare la storia americana dal passato fino al contemporaneo e poi invece diciamo sul discorso della dell'eredità di Sciascia anche su questo direi che dovremmo fare forse una lezione o comunque un approfondimento a sé sappiamo tutti come in questi ultimi anni zero io ho citato diciamo Gomorra di Saviano si fa un gran parlare sul ritorno alla realtà all'impegno addirittura con anche qui neologismi diciamo poco cacofonici neo neorealismo eccetera il discorso è che chiaramente dobbiamo sempre per storicizzare come dicono anche molti critici e molti interpreti di questi nuovi fenomeni rispetto anche per esempio alla ripresa del non fiction novel il nuovo è stato giustamente in alcuni saggi anche di diciamo di studiosi giovani fatto il nome di Sciascia cioè non è che si inventa dal nulla il non fiction novel questa ibridazione tra saggismo narrazione sia perché ci sono dei riferimenti europei che oggi tra l'altro vanno molto per la maggiore come Carrère ma anche perché appunto bisogna sempre fare archeologia e Sciascia sicuramente ha costituito magari inconsciamente indirettamente un modello per questa ripresa dell'ibridazione dei generi letterari il discorso è che appunto io facevo un discorso di generazione letteraria tutte le altre generazioni che hanno seguito questi ultimi grandi scrittori che poi muoiono diciamo Pasolini nel 75 Calvino all'inizio degli anni 80 Fortini Sciascia alla fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90 sono diciamo imbevuti di un immaginario diverso che è proprio quello diciamo in generale dell'epoca postmoderna quindi quando si parla di un ritorno alla realtà in realtà è appunto scusate il pisticcio ma c'è da fare un discorso sulla cosiddetta post realtà cioè su quanto gli scrittori di oggi si misurano e come sui fatti della cronaca sulla conflittualità del presente ma il loro immaginario è appunto imbevuto della videosfera e di come la realtà viene filtrata dai media e diciamo in generale dai social e dalla comunicazione digitale quindi credo che siano discorsi insomma da tenere separati ma diciamo in entrambi i casi io credo che il filo conduttore sia questa fiducia nella letteratura e ripeto ho tenuto a sottolineare più volte che non si tratta di un realismo diciamo come categoria generica e come un passepartout quella di Sciascia è una scrittura appunto molto più misteriosa quando parlava Andrea Verri io mi sono ricordato di una cosa che mi diceva sempre Roberto Roversi questo poeta come sapete amico di Pasolini che Sciascia ha conosciuto e mi diceva sempre io ogni volta che rileggo qualsiasi testo di Sciascia è come un cruciverba e non era una citazione ovviamente della raccolta di Sagi mi diceva proprio questa sensazione di un rompicapo di molteplici livelli di lettura cosa che è stata dimostrata da Andrea quindi rimango in ascolto ma sarebbe bello continuare a parlare di queste cose anche molto attuali grazie comunque per lo spunto Andrea non so se vuoi rispondere e poi abbiamo un'altra domanda brevemente questo è un problema un po' nel senso Sciascia non ha mai rivendicato un ruolo particolare per gli intellettuali anche se poi di fatto si sa benissimo di averlo di fatto di averlo perché lo dice anche è anche normale che poi si coaguli il consenso attorno a una figura come l'intellettuale questo problema diventerà di quello che può capire l'intellettuale diventa un problema molto molto serio nel 75 ancora non si lo aspetta ma tre anni dopo diventerà un problema serissimo come ci diceva prima e come involgerà anche Pasolini ma da morto nel senso che Sciascia adora fare i conti e dirà quando viene rapito Moro dirà in più volte dirà sostanzialmente ma io in realtà ho tirato solo le somme di quello che tutti di quello che si vedeva che stava accadendo in romanzi come in todo modo e così ha fatto anche Pasolini abbiamo fatto solo sintesi di quello che sarebbe poi inevitabilmente successo poi lui dice questo in più interviste quelle che sono state raccolte nella Palma Val Nord e poi saremo perduti senza la verità ma la cosa ovviamente insomma diventa molto seria e non è un caso se poi Sciascia per anni non scrive più romanzi di invenzione insomma quindi è molto interessante secondo me leggere quello che dice Sciascia nel 75 perché poi in prospettiva il problema come dire diventa molto molto serio e pesante insomma ecco questo grazie allora abbiamo Carlo Forte che dovrebbe intervenire sì buonasera buonasera a tutti mi sentite sì volevo chiedere a Andrea Verdi una cosa rispetto ai riferimenti Sartre la guerra d'Algeria c'è un posto in Sciascia per la figura di Camus che è stato un po' un contraltare un interlocutore e come dire un avversario politico e culturale di Sartre in quella vicenda in quella vicenda e anche più in generale mi veniva in mente così per le mie così conoscenze un po' sommare di Sciascia è possibile immaginare un Sciascia che si sposta da Sartre verso Camus al di là dell'autore ma come come approccio insomma anche rispetto alla politica perché mi sembra che questo sia un percorso che ha riguardato altri singoli anche gruppi e un certo spirito complessivo insomma per cui Sartre non so se se ritornerà di moda proprio adesso c'è qualche segnale ma oggi Sartre è fuori moda no? ecco ci sono degli studi su Sciascia e Camus ma in realtà io non non sono cioè il l'impegno di di Sciascia cioè voglio dire poi tra l'altro proprio l'impegno paradossalmente succede questo di Sciascia nel senso che diventa molto si espone molto di più proprio pubblicamente quindi assume sempre di più il ruolo dell'intellettuale impegnato sempre di più sempre di più nel quando in realtà ha maggiore distanza da Sartre cioè sostanzialmente dopo la morte di Pasolini quindi succede una cosa un po' un po' strana nel senso che si espone sempre di più sui giornali quando in teoria cioè più lontano di fatto dalla posizione da posizioni sartreane diciamo ecco e mentre si rafforza sempre di più quell'ideale di letteratura come strumento come strumento di conoscenza superiore a tutti gli altri con diciamo anche delle alcune diciamo puntate un po' complicate Sciascia riesce di fatto in questa cosa che secondo me riesce solo a lui di come dire avere una visione dagli anni 70 agli anni 80 una visione della letteratura molto particolare articolata che esclude altri ambiti in parte cioè tende a mettere non escludere ma insomma a mettere in secondo piano altri ambiti del sapere altre marxismo e anche un po' la psicanalisi a allontanarli sempre da sé e contemporaneamente però non a richiudersi ma a continuare a pretendere l'impegno quindi è una posizione tutta è una posizione tutta sua effettivamente almeno per come la vedo io molto molto particolare perché riuscire a esaltare la letteratura e in contemporanea a cercare di di mantenere l'impegno adesso io lo sto spiegando male ma è una cosa che riesce credo quasi solo a lui in questi termini in cui lo fa lui che sono veramente particolari complicati perché poi in opere come faccio per dire la ferma oro crea delle cose che sono che è chiaramente impegnato ma che dal punto di vista letterario come dire è elaboratissimo e non catalogabile oggettivamente però credo che sia una cosa rarissima che faccia sostanzialmente lui forse Ricciarda se spiegarla meglio tu sta roba non so ecco no l'hai spiegata bene anche tu ecco però io penso che sia una cosa tutta sua e anche difficile da imitare tant'è che i suoi racconti d'inchiesta sono molto particolari cioè li scrive lui ma io non credo che ci sia qualcun altro che sia in grado di fare quelle cose che fa lui perché se le fa qualcun altro secondo me diventano anche un po' inaccettabili cioè rischiano di diventare oggettivamente inaccettabili questo è un parere mio personale nel senso ecco parlando di di questa auto di questa cioè lo fa in una maniera del tutto particolare insomma che è difficile trovare pensando a italiani contemporanei insomma a livello e nella maniera particolarissima in cui la fa lui grazie Andrea c'è una domanda per Moliterni da parte di Domenico Calcaterra che sarà poi il nostro bellatore delle prossime perché questa implicita chiusura all'esperienza di Calvino che rimane sempre al paro rispetto all'esperienza di Sciascia o di Pasolini perché istituire una chiusura così netta tra l'esperienza di Sciascia e di Calvini quando per vie diverse stanno dentro alla stessa crisi praticano certamente con esiti intermetralmente opposto una letteratura intesa come detection non è una critica di modelli non è un gioco a falsificare quello inseguito da entrambi Fabio a te la risposta su questo prevedevo questo diciamo confronto con Calvino anche qui che andrebbe sappiamo molto tutti diciamo di lettere della importanza di Calvino proprio negli anni della gestazione libro dopo libro ora io credo che ci sia una cifra diciamo ora magari non parlo tanto di letteratura ma appunto di postura di atteggiamento di questi intellettuali nati negli anni 20 cioè la malinconia cioè credo che come diceva Verri Sciascia è forse uno dei pochissimi scrittori italiani di quegli anni in questo si distingue da tutti i suoi compagni di strada a saper conciliare fino all'ultimo un disincanto una malinconia che come abbiamo visto ha delle radici profonde perché abbiamo parlato del 1956 e Calvino è uno dei primi che si smarca dagli ideali diciamo progressisti e dal realismo dalle poetiche del realismo ecco io credo che Sciascia riesca pur sperimentando come abbiamo visto come abbiamo detto e come sappiamo all'interno del recinto delle forme letterarie nuovi moduli nuove combinazioni riesce però a tenere insieme queste due dimensioni la malinconia ma dall'altra parte anche un impegno civile di fronte al quale è chiaro che cambiano i riferimenti da Sartre da Camus eccetera credo che sia invece indiscutibile per esempio leggevo rileggevo qualche giorno fa l'articolo sulla non so se vi ricordate sulla esplosione della biblioteca è un articolo di Calvino pubblicato proprio all'inizio degli anni Ottanta cioè lui malinconicamente riflette su un fenomeno che poi diciamo scoppierà di lì a venire cioè di questa incapacità di seguire la tradizione letteraria la biblioteca dei classici anche semplicemente per una questione sociologica di iperproduzione della mercificazione letteraria e quell'articolo segna secondo me per esempio un discrimine tra come Sciascia continua a rimanere fedele ad una tradizione pensiamo a Libello su Stendhal che esce pochi mesi prima della morte Stendhal e la Sicilia e quanto invece Calvino reagisca in modi diversi diciamo a questa cifra comune della malinconia della perdita di valori di ideali nel corso degli anni quindi al di là anche diciamo dei generi letterali delle forme letterali credo che si debba fare anche un discorso di questo tipo di postura intellettuale di reazione alla storia del loro tempo che appunto secondo me distingue perché è necessario secondo me distinguere e non soltanto accomunare come dicevi giustamente tu Ricciardo tutti questi scrittori anche Pasolini e Sciascia vanno appunto accomunati ma anche distinti non soltanto per gli esiti stilistici ma anche proprio come atteggiamento nei confronti del loro tempo storico spero di aver risposto sì penso che sia un argomento su cui si potrebbe discutere effettivamente perché per esempio a me non parlo di Sciascia ma la contrapposizione è così forte Calvino contro Pasolini lascia sempre un po' perplesso perché anch'io insomma pur essendo il mio cuore batte molto dalle parti di Sciascia che anch'io studiavo una vita però trovo che insomma anche a rileggere una pietra sopra insomma 1980 anche quella prestazione che secondo me è bellissima insomma viene fuori anche in Calvino insomma una posizione che tutto sommato certo è vero è diversa però insomma ha una sua forza ecco va bene non so se abbiamo qualche altra qualche altro intervento abbiamo siamo già arrivati all'ora 17 ma se ci fosse ancora qualche domanda nient'altro va bene allora mi pare che abbiamo già appunto intrattenuto abbastanza sia i nostri ascoltatori che anche i nostri relatori che ringraziamo ancora molto perché sono fatte due conversazioni molto interessanti senza dubbio che mi sembra poi così rientrano benissimo in questa idea delle lezioni ciasciane insomma che ci permettono anche di rivedere un po' tutto tondo insomma questo scrittore all'interno di un quadro che è quello della letteratura italiana più recente quindi da questo punto di vista insomma mi sembra che siamo proprio perfettamente al centro di quello che avremmo voluto fare allora io ringrazio ancora molto Fabio Militerni e anche Andrea Verri e ai nostri pazienti ascoltatori do allora appuntamento alla settimana prossima ancora mercoledì per l'ultimo appuntamento veneziano con Calcaterra e Alessandro Cinquegrani grazie a tutti ancora e a presto arrivederci buon lavoro buone cose arrivederci complimenti ricorda Moliterni e Verri saluti al prossimo incontro grazie grazie a voi tutti grazie arrivederci